Un posto al sole, matrimonio Franco e Angela, il segreto di Grimaldi, i dettagli. Anticipazioni dal 5 al 9 marzo, 2018 delle puntate della celebre SOAP Partenopea continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amatissima SOAP napoletana Run posto al sole. Questa settimana, secondo quanto svelato dalle anticipazioni, si preannuncia ricca di colpi di scena e molto movimentata. Al centro delle scene ci sarà un ritorno molto amato a Palazzo Palladini con un entusiasmante annuncio per tutti i fan della coppia storica della SOAP, Franco e Angela parentesi quadra aperta video parentesi quadra chiusa. Anche Alberto Palladini sarà protagonista nella prossima settimana a causa dell'infittirsi del suo legame con Sandro e alla sua complicità con Veronica Viscardi, con la quale custodisce un legame da molto tempo. Nel corso delle puntate, faranno il loro ritorno anche Nico e Susanna con i loro problemi di coppia e non mancherà l'attenzione alle vicende del Giovane del Bue sempre più coinvolto da Anita Falco.